Coinvolgerò direttamente Mogol perché la canzone in gara per il premio Mogol è egocentrica di Simona Molinari ed introduce appunto il brano Mogol stesso. Cerco le attenzioni di quegli uomini golosi, quando sguardi ed emozioni so di vivere in simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente. Egocentrica a volte forse un po' lunatica ma non sarò la prima e l'ultima che vuoi sentire ed essere l'unica. Egocentrica a volte forse un po' lunatica ma non sarò la prima e l'ultima che vuoi sentire ed essere l'unica. Egocentrica a volte forse un po' lunatica l'ultima, l'unica. Ora che sapete perché sono qui davanti non mi giudicate male perché a riflettori stenti sono fragile anche timida ma non per questa stupida e dopo il palcoscenico una vita vera ancora non ce l'ho. Beh, straordinaria, straordinaria. Valentina Anzalone, straordinaria. Brava, davo un vaso, brava. Ma brava sei stata. Non è una canzone semplice questa. Guarda che applauso, grazie. Prego. Egocentrica. Beh, e qui...